Ben ritrovati. Oggi non vi parlo del coronavirus, ma vi parlo degli effetti collaterali che il Covid ha avuto sulla nostra vita. Per esempio ha bloccato tutti i concorsi, voi lo sapete. Uno di questi era quello che doveva selezionare almeno mille persone, mille cento e passa, per l'ARPAL. L'ARPAL è una sigla strana che significa Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro. In realtà si tratta di un grande collocamento, un collocamentone che gestisce i collocamenti territoriali, chiamiamolo appunto supercollocamento. Ecco, questa Agenzia adesso è nella bufera, o almeno per il momento si aspetta una bufera, stanno aprendo l'ombrello, perché la denuncia che qualche giorno fa è stata fatta a Telebari a proposito di un blitz che ha aperto e chiusa nel giro di pochi giorni la selezione è diventata una vera e propria denuncia del sindacato, della CGL e delle opposizioni. Che cosa è successo? È successa la solita cosa all'italiana e noi la conosciamo bene. Il concorso fermo, chiuso, 60 mila persone hanno partecipato a quel concorso, tuttavia rimane socchiuso per 236 persone perché servono posti comunque all'ARPAL e come si cercano? Si cercano alla solita maniera, con un concorso quasi fantasma, i cui termini vengono aperti e subito richiusi e tanto che appunto chi voleva partecipare ha denunciato il fatto, dice io sono stata fatta fuori. Ma non è uno, ma devono essere tantissimi, tanto che appunto adesso la CGL e le opposizioni chiedono a Emiliano di intervenire sull'argomento. La questione è grave perché parliamo di lavoro e non solo parliamo di lavoro, parliamo di un lavoro precario e precarissimo. Questi 236 sono solamente una piccola parte dei 1100, ma quanto dovrebbero rimanere in quel posto se poi sarà fatto il concorso? Sei mesi al massimo? Ecco, noi ci stiamo diciamo come al solito dividendo le briciole, non è una politica attiva per il lavoro, è la solita politica che chi ha qualche santo in paradiso riesce perlomeno a raggiungere uno stipendio per qualche mese. Ecco, non ci piace per niente, non solo perché dal punto di vista etico è brutto, ma soprattutto non va da nessuna parte. Una politica attiva del lavoro è una cosa molto più seria, è appunto cambiare l'economia di una regione. Vi ringrazio e ci vediamo prestissimo, lunedì credo. Ciao.